Andiamo nella regione più popolosa d'Italia, la Lombardia, andiamo a Montichiari, altra piazza storica della pallavolo italiana, purtroppo non c'è più a grandi livelli, ma a livello di istattore giovanile continua a fare bene, lo ha fatto anche oggi, arrivando prima nel proprio girone, stiamo parlando del volley Montichiari, vicino a me c'è il capitano, parlaci un po' di questa squadra e di cosa è anche per te la pallavolo. Presentati intanto. Mi chiamo Zamboni Nicolás e per adesso la mia squadra sta dando il massimo e per adesso abbiamo vinto tutte, per me la pallavolo significa quasi tutto perché ho iniziato da sei anni e è molto bello come sport, mi piace tanto e le vado fiero. Il giocatore che ti piace di più? È Zaitze. Ivan Zaitze, l'idolo di tanti giovani e non della squadra. Pallavolo italiana ma non solo. Gli altri componenti di volley Montichiari? Martinetti Gianmari. Telese Simone. Pedistero Jacopo. Matteo Bonomi. Grazie Montichiari, un saluto caloroso, salutate tutti. Ciao. Non siete molto entusiasti, siete stanchi, ma ciao.